Ciao a tutti ragazzi qua è Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online Oggi ragazzi sono ritornato con una nuova gara troll, un nuovo troll box Ho l'attiventi perché era l'unica auto consigliata E purtroppo quando c'è l'attiventi come auto consigliata io perderò le ore Cioè io perdo le ore ragazzi a concludere insomma le gare Allora vediamo un po' siamo ovviamente in una nuova scatola troll Le ultime sono state davvero impossibili quindi Spero che questa sia un po' meglio cioè vi dico la verità Allora ovviamente abbiamo sempre i classici primi checkpoint facilissimi da prendere Poi però il traguardo non so mai se lo vedremo Allora checkpoint preso andiamo sempre avanti Che poi non capisco perché le T20 siano sempre consigliate Sta cosa è veramente strana Veramente molto strana Allora ok ultimo checkpoint Ed ecco il traguardo dove si trova? Sotto Va bene ragazzi il traguardo è sotto Vediamo un po' dove Praticamente qui sotto Vediamo un po' Oh qui c'è tipo una fessura Ragazzi vediamo un attimo No se lo concludo così Se lo concludo così è incredibile Se lo concludo così ragazzi C'è una fessura Vediamo un po' Compagni datemi tipo una spinta No mi serve una spinta Mi serve una spinta migliore Per cadere giù No ragazzi non si può Non si può Vai vai ecco così 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 cadi dentro Cadi dentro No ragazzi non si può Non si può niente Neanche con le spinte Allora cerchiamo di andare avanti Via via Dobbiamo trovare ovviamente un metodo Per andare fuori Io non so se sia Nella strada a terra Il traguardo Però ovviamente Dovremmo uscire insomma Da questa scatola Allora Cosa potrei fare Qui abbiamo degli ostacoli Niente potrei subito Puntare ai vari tubi Vediamo un po' No ma qui Ragazzi se Se a terra il traguardo Cioè nell'asfalto normale Non in un'altra piattaforma Io adesso lo prenderò subito Perché Farò un salto Volerò sopra il tubo E praticamente arrivo subito Arrivo subito Dove voglio arrivare Allora vediamo un po' Vediamo un po' Vai Vola nel tubo Eh però È leggermente difficile Eh sì Eh sì È leggermente difficile Quelli ancora stanno provando Ad infilarsi Nella fessura E Vabbè Tentiamo ora Ah ma per prendere i tubi Si deve saltare Ah ok Per prendere i tubi Ragazzi si deve fare tipo un salto Allora io adesso Prenderò quello nero Vai Entriamo dentro Ok perfetto Perfetto Andiamo su Vediamo un po' Che cosa trovo Allora qui mi dice che sono in prima posizione Eh effettivamente sono il più vicino al traguardo Però boh ragazzi Questo Questo tubo A parte che è tutto nero E veramente non si vede nulla fuori Non è come gli altri che sono Che hanno i buchini E quindi guardi all'esterno Qui non si capisce veramente nulla Allora andiamo giù piano Non esplodere Mamma mia Sono caduto lì malissimo Allora vai Continua a cadere giù Cadi 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 Va bene Niente Tutto è chiuso Però vediamo se qui si riesce a capire qualcosa Forse su una piattaforma Non lo so ragazzi Ma siamo sicuri che è chiuso qua Si tutto è chiuso Niente Mi conviene ricomparire Diciamo che io ragazzi Potrei ancora tentare Quello che volevo fare prima Ovvero arrivare E poi vedete E poi vedete lì nel muro C'è un pezzettino Di qualcosa Forse di tubo Che esce Non lo so Allora io voglio provare A fermarmi sopra i tubi Per poi ragazzi Scavalcare tutto Non so se ce la farò Allora andiamo un attimo No no Non così Non così Non così Niente vabbè Sono andato male indietro Rimettiamoci bene qui Indietro indietro Io ragazzi voglio provare A fare un salto A salire sopra i tubi E poi Arrivare Eh ma è difficilissimo È difficilissimo No è difficilissimo Fermarsi Come si fa Ragazzi è difficilissimo Fermarsi sopra i tubi Come potrei fare Non lo so Potrei prendere ovviamente Anche gli altri tubi Però logicamente Già li hanno presi Credo anche gli altri compagni Ma nessuno ha fatto nulla Allora entra lì Ok è entrata veramente Con stile Qui è tutto chiuso Sì ragazzi Qui è tutto chiuso Però Però forse si può salire Vediamo un po' Vediamo un po' Tentiamo qualcosa di strano Vai 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 Ok ho preso il turbo Ragazzi lì c'è un buchino Vediamo Oh no no Fermati Ah sono esploso Sono esploso Va bene dai Forse forse si riesce Ad arrivare da qualche parte Ragazzi Era il tubo Quello lì bianco Ma chi inizia Con quello nero Va bene va bene Allora siamo qui Già quasi Da sei minuti E finora Dal traguardo Ragazzi Non si vede nulla Entra Ok vai Non sono esploso Il problema è poi Quando esplodi Devi rifare completamente tutto No 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 Mamma mia E vabbè Ora ci sono pure gli altri in mezzo Diventa Per dieci volte peggio Allora vai riparti Andiamo 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 Vai qui Super curva Non è andata ragazzi Rimettimocci bene Occhio vai Fortunatamente l'auto non è esplosa Eh dovrei fare più o meno la stessa cosa di prima E poi atterrare però senza saltare in aria Vai 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 così vai così vai così vai così Vai così Dai che ce l'ho Sali su sali su sali su sali su sali su Ok ragazzi Allora qui ho qualcosa Qui ho qualcosa Potrei tentare di Ora proviamo Vedo un attimo se fuori Perché qui sotto si arrivava No ma è sicuro chiuso Ragazzi io esco fuori Perché questo è un troll box E quello che si deve fare è uscire dalla scatola Io dalla scatola sono uscito E vediamo ora la situazione Allora cerchiamo di cadere però Per favore senza esplodere Ok E andiamo a prendere sto traguardo Ragazzi Dovrebbe essere sotto Però non ne sono ovviamente sicuro al 100% Però dalla scatola ci sono uscito Quindi Diciamo quello che si doveva fare io l'ho fatto Però non so Se il traguardo sia sopra Dov'è il traguardo ragazzi Dov'è dov'è È sopra sopra È qui È qui È qui È qui È sicuro qui È sicuro qui ragazzi Vediamo un po' Se c'è una rampa Non vorrei che ci sia qualche zona buggata Ragazzi forse il garage Vediamo È possibile che ci sia qualcosa di buggato Oppure sia sul tetto Di questo posto Vediamo un po' No ragazzi È proprio qui sopra È proprio qui sopra Allora Vediamo se posso tentare Non so Un salto estremo È lì sopra Quel palazzo Oppure ancora più sopra Ragazzi non si riesce a capire Forse è dentro Ah no Forse è completamente sopra È in quella piattaforma gialla Allora Vediamo se è vero Sì È lì ragazzi Ah è dentro Uuuuh Vai vai Ricompariamo Ricompariamo Ragazzi avete presente Quell'angolo Dove c'era Quella fessura Che potevi entrare Ecco Bisogna entrare Lì sopra Lì sopra In quell'angolo Quindi io devo andare all'esterno E forse all'esterno Ci arrivo Con un gran bel wall ride Ora la situazione quadra Quadra di brutto ragazzi Mamma mia L'ho capito L'ho capito Devo Devo andare io Da qualche parte Allora Vediamo un po' Andiamo qui Io ragazzi Devo salire Diciamo Nel bordo superiore Del Della scatola Allora Devo Devo fare tipo Un wall ride Io devo salire In questa piattaforma E E poi ragazzi Fare un wall ride Laterale Fermarmi sopra Nel bordo Superiore E arrivare poi Al traguardo E' veramente semplice Molto Molto semplice No 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 Niente Qui Purtroppo Sono rimasto fregato Oppure potrei pure Tentare Vabbè Ricompariamo Potrei pure tentare Ragazzi Di fare il wall ride Invece all'altra parte E cadere direttamente Nell'angolo Lì sopra Non è Una brutta idea Però Quello mi sa che forse Mi sa che l'hanno capito Ragazzi Però Devo salire qui Devo salire in qualche modo Qui sopra Questo è il problema Vabbè Ce la posso fare Allora Andiamo da questa parte In qualche modo Ce la farò Vai Vai a destra Dai che forse ci sono Mettiti bene Ah niente da fare Aspetta compagno Rimani lì Rimani lì Rimani lì Rimani lì Fammi da rampa Fammi da rampa Ok perfetto Perfetto Oh E vabbè C'è tutto il turbo Ok la situazione È un po' Un po' Bastardina Devo dire Vediamo C'è quella ancora lì Ok ok Aspetta che salgo Ok E andiamo adesso Ragazzi No togliti Vai wallride Ragazzi Vabbè Questo è il modo Il modo è questo Al 100% Qui c'è della gente Ferma Fatemi andare Dai che c'è quello Fermo Vorrei salire Vai 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 Ragazzi Qui i giocatori Fanno da rampa Sono utili Ok Vai forse ci siamo Forse ci siamo Vai sali su No vabbè Impossibile È impossibile Perché non si riesce A stabilizzare l'auto Allora Io riprovo a salire Nel tubo Di prima Che sotto Aveva tipo Forse una qualche Fessura Ragazzi Vediamo un po' Se io riesco Se io riesco A farcela Allora vai Voliamo dentro Ok Senza esplodere Vai perfetto Perfetto Devo risalire sopra E provare a cadere Lateralmente Perché magari c'è qualche buco Vai turbo turbo Dammi il turbo Ah perché non me l'ha dato No ma lì forse non c'è nessuna apertura Lì forse ragazzi Non c'è nessuna apertura Vai proviamo a risalire Cioè io so dove è il traguardo Il problema è Il problema è Arrivarci Eh no È tutto chiuso È tutto chiuso lì È tutto chiuso Quindi mi sa che è l'unica soluzione Allora a sto punto Eh ragazzi L'unica soluzione È farsi il wall ride Quello ce la sta per fare Non mi dire Uh C'era quasi arrivato ragazzi Un giocatore Vai saltiamo qui Ok vai Tutto il turbo Eh vabbè Perché lo prende così Perché lo prende così Se lo prende così Come si fa Difficilissimo Vabbè Quello mi fa da rampa Ragazzi Io lo uso Io devo fare Io lo uso Vai 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 Alla grande Alla grande Alla grande Sali su Sali su Sali su Sali su Entra 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 Vai che andiamo a concludere È qui sicuro Ragazzi io ho preso il traguardo Da morto Da morto Però l'ho preso Io ho concluso ragazzi Io ho concluso in 12 minuti Non so 55 Questo è un'ingiustizia Vai 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 Cadi dentro Cadi dentro Ok senza esplodere adesso però Senza esplodere Senza esplodere Dove sono? Uh Ho trapassato qualcosa E andiamo a concludere Vai Ragazzi La stessa cosa che ho fatto prima Solo che prima l'ho fatta da morto E poi l'ho fatta invece da vivo E quindi ho concluso in prima posizione Vabbè Penso che il mio vantaggio sia stato Cadere giù Quindi rischiare di cadere fuori E vedere che il traguardo era dentro quell'angolo Una cosa veramente stranissima Comunque i giocatori mi hanno fatto da rampa E vabbè Ci sarà arrivato lo stesso Voglio dire Arrivando nel tubo nero Poi arrivando alla piattaforma rossa Ce l'avrei fatta Però quelli lì vedete Si aiutano Fanno da rampa I giocatori sono utili Niente Ho concluso in 14 minuti Credo Vediamo un po' 13 minuti e 34 Ragazzi Troll box Abbastanza bello Questo qui mi è piaciuto tanto Perché Era un po' Era un po' strana la situazione Però non è stato neanche Tanto scleroso Io spero che il video vi sia piaciuto E come al solito appunto Ci sono Ragazzi Dalle gare troll Che durano un'ora Altri che durano un po' meno Questa qui Cioè questa volta mi è andata bene E sono contento Perché Le altre volte sono stato mezz'ora Come minimo E Non fa bene alla salute Assolutamente no Io spero che il video vi sia piaciuto Qui è Dexta Ovviamente se volete Altri troll box Ragazzi Lasciate tantissimi like Qui è Dexta Lasciate un bel mi piace E ci vediamo al prossimo video Ciao Grazie a tutti